Arriva l'estate e conquesta le agognate ferie, occasione che molti sfruttano per dedicarsi a quelle attività come la lettura, spesso trascurate nei lunghi mesi invernali, più densi di impegni. Ed ecco che rispolveriamo quel libro comprato tempo addietro e lasciato ad attenderci pazientemente su uno scaffale della nostra libreria, o che facciamo un salto a comprarne di nuovi. Voglia di rilassarsi sì, ma senza staccare la mente e la lettura si rivela un momento non solo di svago, ma soprattutto di arricchimento, di riflessione. Che cosa leggono i lucchesi in questo periodo? Noi chiediamo ai lucchesi proprio di dirci cosa hanno voglia di leggere, quale sarà la lettura che vogliono ricordare per questa estate. Quello che piace ai lucchesi in questo momento, ai nostri lettori, è quello di spulciare anche tra case editrici meno note, ma che si stanno dando da fare tanto per anche riportare a galla delle letture bellissime che magari si stanno andando perdendosi. E che d'inverno a volte uno non ha il tempo di soffermarsi. Quest'anno i lettori si sono appassionati tanto nella ricerca non di coloro che hanno vinto il premio strega e quindi hanno voluto leggere la colpa dei padri, le colpe dei padri, piuttosto che tutti quelli che erano stati un po' esclusi dalla cinquina. Il thriller sicuramente d'estate è molto ricercato e poi molte donne che ricercano libri come può essere donne che corrono con i lupi, che sono sempre più interessate a una lettura anche non occidentale, anche autori stranieri, orientali. Questa è un'estate dove le persone hanno voglia di leggere sì cose leggere, appassionanti, ma comunque che lasciano qualcosa, uno qualche spunto di riflessione con cui affrontare l'inverno magari in maniera più attenta. C'è sicuramente un momento di pausa in più per cui la gente ha un pochino più di tempo per leggere, ma fondamentalmente chi si rivolge a noi si rivolge sempre per leggere i libri di qualità. Quindi non ho notato un cambio particolare da una stagione all'altra? No, assolutamente, anche perché poi i libri hanno un tempo di vita abbastanza lungo in questo posto, anche perché vengono selezionati con cura, per cui non scadono come le mozzarella, anche quando fa caldo. Il genere sono i bei libri, a prescindere da che sia narrativa o saggistica o saggistica divulgativa, però fondamentalmente dei bei libri. Grazie. 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 Grazie.